Quarto giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sua Teresa era devota di Sant'Agostino e questa preghiera rispecchia al meglio la sua vita. Per questo vogliamo iniziare con essa la nostra richiesta di grazie nella viva speranza che Dio la faccia partecipe della sua gloria in Paradiso. Vita per la quale vivo, senza la quale muoio, vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto, vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato, vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile. Nonostante la tua volontà di sacrificarti nel silenzio e nell'ombra, i tuoi gesti di fervorosa mortificazione mettevano in risalto la tua spiritualità e il tuo profondo desiderio di piacere a Dio. In virtù di questo tuo desiderio di silenzio e di spiritualità a lui gradita, non ti rincresca intercedere per noi affinché ci ottenga la grazia che gli chiediamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarsi dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Suor Teresa, valse i pantellini. Prega per noi. Invochiamo ora insieme l'intercessione di questa venerabile e chiediamo la sua glorificazione. O Gesù, che hai detto di imparare da te, mite umile di cuore, degnati di glorificare la venerabile Suor Teresa Valsepantellini, tua sposa fedele e generosa apostola. Concedi a noi le grazie che per sua intercessione ti chiediamo e fa che possiamo imitare la sua fede e la sua carità per amarti e lodarti in eterno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.